ciao allora oggi video creazioni inizio a mostrarvi quelle quattro cinque cosette che ho fatto quando ero al mare allora parto con il farvi vedere due paio di orecchini allora i primi sono questi è un rivoli della nuova colorazione di swarovski che ho acquistato da perlesenco nel mese di maggio giugno adesso non ricordo ne ho presi diversi di colori nuovi e niente adesso sto sperimentando varie incastonature questo ho deciso di realizzarli ecco forse così si vede con mettendo in contrasto appunto il colore del rivoli che purtroppo per via della luce artificiale non si coglie la bellezza comunque di questo di questo colore e insomma vi stavo dicendo appunto che ho deciso di fare un contrasto sia con le delica le rocaille e super duo che ho utilizzato per realizzare queste questa specie di sole ho preso spunto da marghe per fare questi poi secondo me lei è la numero uno di creazioni con le super duo quindi niente volevo appunto farvi vedere cosa ho fatto appunto grazie a lei quindi queste qui mi sono piaciuti veramente tanto anche all'orecchio sono veramente carini poi altra cosa che ho fatto sono questi orecchini sono stati creati da me nel senso che mi sono usciti così un giorno non ho seguito nessuno schema poi magari ci sono sia tutorial che che schemi in in giro di questi però vabbè io ve li mostro allora ho fatto sempre queste utilizzando le super duo ho fatto questi cerchietti e poi ho rivestito una perlina da da 6 mm mi sono provata sono provata ma quanti strafalcioni sto dicendo mi sono trovata appunto queste perle da da 6 mm dentro nella struccino che avevo portato mi sono divertita a provare a rivestirle mi è sembrato abbastanza semplice anche perché poi comunque le perle sono veramente piccoline quindi non è che ho avuto molto ingegno però insomma diciamo mi piacciono perché sono etnici poi ho utilizzato dei colori che che andranno questo inverno cioè il verde insomma ormai l'inverno mi spiace dirlo è quasi alle porte per cui mi sto dedicando appunto a creazioni che venderò comunque proporrò nei mercatini appunto in tonalità adeguato al periodo ecco insomma sono molto belli se volete sapere come ho rivestito una perla da 6 mm ditemi che eventualmente vi faccio una specie di tutorial faccio un tutorial poi ripeto non so se già qualcuna le ha realizzate queste un incastonatura un rivestimento più che un incastonatura di una perla da 6 mm secondo me tutte noi ci mettiamo lì riusciamo a farle però insomma se a qualcuno serve sapere o interessa sapere come ho fatto basta che me lo dica e sarò felicissima di di fare ecco anche questo tutorial poi allora altra cosa che ho fatto tenendo rimanendo sempre in tema di anzi no questo qua ve lo faccio vedere dopo inizio per farvi vedere ho realizzato una daga diverso tempo fa quando ho preso appunto questi rivoli di colorazioni nuove della svaroschia ho preso anche da perles un sacco di daghe nuove e mi sono messa a fare la prima gerbera utilizzando queste daghe è uscita fuori questa purtroppo non non si nota bene la bellezza di questo colore poi sarà che a me piace tutto quello che appunto richiama il bianco le matite l'argento per cui è veramente veramente belle ragazzi e poi buono so addosso fa una luce assurda niente quindi ho deciso di dov'è il collo non ce l'ho mannaggia ho deciso appunto di realizzare questa vediamo se riesco a farvi vedere sempre con una mano sola questa sorta di collana mettendo appunto beh queste catene color e matite che richiamano il colore delle daghe sia da un lato che dall'altro intervallando con una semplice catena tipo un rollò utilizzando poi una semplice chiusura a t barra a forma di cuore e realizzando questo ciuffettino che completa diciamo la collana e secondo me la rende un po più raffinata ecco indosso è spettacolare infatti penso che appena ho finito di fare due o tre cosette che ho qui da da completare ne realizzerò un'altra sempre da proporre è bellissima 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 mi spiace ripeto che la luce artificiale non non le renda giustizia però vabbè e che non riesca oltretutto ad aver sempre sotto mano un collo per farvi vedere come l'ho studiata la catena ecco come ho studiato la catena e niente quindi questa è l'altra mia seconda terza creazione adesso passo a un incompleto che è questo cabochon che ho appunto incastonato uno Swarovski rotondo adesso non ricordo più le misure ma che mi aveva omaggiato Sabrina e visto che devo fare un regalo a mia mamma devo realizzarle una collana arancione ho deciso di prepararle anche un anello quindi è incompleto appunto perché mi manca la fascetta e non vorrei proprio realizzare la fascetta in peyote perché non mi piace non mi finisce di piacere per cui vorrei pensare a qualcosa di alternativo però diciamo che sempre senza la luce artificiale quindi con quella del sole brilla che è una cosa favolosa poi il colore è veramente bello ripeto l'ho rivalutato tanto e niente quindi vabbè questo rimane negli incompleti perché devo realizzare il retro adesso vi faccio vedere questa che ho sempre realizzato quando ho preparato questi orecchini qua e anche questo prendendo spunto da un tutorial una creazione di margherita ho realizzato questo questo fiore anche che qui non è di mia convinzione nel senso che esce facilmente a tutti soprattutto dopo aver visto tutti i tutorial e le creazioni di margherita quindi ho soltanto delineato bene i petali e creato queste specie di codine che insomma che la rendono un po più simpatica ecco allora ho pensato ad una collana perché il mio la mia parte sempre particolare che non sempre mi rende felice quando creo la realizzazione delle della catena del supporto del ciondolo quando appunto ne faccio uno e niente quindi avevo pensato inizialmente a fa che palle questa luce a questa catena che avevo preso da da pietra se non erro con la stoffa la seta se non erro e questa catena appunto color oro è intervallata sempre pezzi di catena pezzi di di questa specie di catena in tessuto però mi manca poi la chiusura perché non ne ho color oro quindi vabbè però anche non mi non mi piace non mi piace non mi piace sto pensando di utilizzare questi cioè di tenere il ciondolo mettergli magari una bella pinzetta color oro e realizzare con il cobra e con questi di realizzare una una catena una catena una catena si una specie di corda con questi cobra con questi adesso poi me la devo studiar bene comunque molto molto semplice che risalti faccia risaltare il ciondolo ecco ditemi poi voi cosa ne pensate se avete consigli da darmi insomma sono sempre ben accetti ok allora mi fermo qua mi fermo qua e anche perché poi ho difficoltà nel caricare video questo è tutto quello che appunto fatto quando quando ero in fere e niente spero che le cose che ho fatto vi piacciono e niente ragazze ci vediamo presto buona buona settimana lavorativa perché per chi come a me ha iniziato e a tutte le altre ancora buone ferie vi mando un bacio ciao